Anticipazioni Il Segreto, lunedì 12 agosto 2019 Maurizio e Fè spiegano ad un felice quanto sconvolto Raimundo tutta l'avventura che hanno vissuto. Adesso non resta che organizzare il viaggio, o meglio, la fuga di Fè, dalla cittadina eberica. Ulieta è molto felice, la bottegaia è viva e sta benissimo. Per fortuna Faustino è solo un lontanissimo ricordo. In risposta alle domande della Laguna, il dottor Fernandez confessa di aver aiutato la Perez, firmando il suo certificato di morte. Successivamente i due appaiono molto felici e finiscono per scambiarsi un bacio dolcissimo, ma ricco di passione. Antolina indaga su un misterioso personaggio che hanno visto insieme a suo marito. Dolores, venuta a conoscenza di tutto, scioglie ogni suo dubbio. Carmelo e Don Berengario litigano di brutto sulla ricostruzione dei fatti accaduti nel bosco nel corso della sparizione di Ulieta e non si accorgono che qualcuno li sta ascoltando. Si tratta di Don Anselmo. L'uomo stanco delle loro bugie decide di compiere le dovute indagini. Franziska si interessa alla questione Roberto e capisce che l'unico modo per sbarazzarsi di lui è comprarlo con il suo denaro. Maurizio in poche ore riesce a ottenere il certificato di morte di Fè. Adesso devono solo organizzare la partenza ed è fatta. di Fè. Adesso devono solo organizzare la partenza ed è fatta.